ho fame proviamoli subito allora io voglio provare a farli qua dentro vediamo se vengono ben ecco qua i cornetti si presentano così madonna che piccoli vabbè ne faccio due ecco qua madonna questo sì che è lungo aziono mettiamo il panino e ecco muffin 12 minuti bruciati ecco qua e tu ti aspettavi cornetta alla nutella di marca questo passa per il convento e questo ci prendiamo speriamo che sono buone a me sembra di sì sta suonando la cacacazza vediamo madonna adesso sì che sono grosse proviamo subito vediamo com'è i primi due morsi erano vuoti e adesso sta iniziando ad esserci il cioccolato non è che erano tutto sto granchetti dico la verità un voto da 1 a 10 10 più buoni di quelli del bar grazie a tutti grazie a tutti